a ragazzi buongiorno e bentornati nel canale del coach umberto miletto oggi andiamo a vedere uno di quegli esercizi fenomenali da utilizzare nei propri allenamenti ossia il goblet squat ovviamente abbiamo lo squat eseguito col bilanciere che potrebbe essere visto uno dei massimi esercizi da inserire nei nostri allenamenti però spesso e volentieri c'è chi si allena in casa c'è chi si allena in determinate situazioni in palestra e possono tornare utili altre varianti di squat in particolar modo il goblet squat che si esegue con un manubrio torna molto comodo quando abbiamo da fare più ripetizioni quindi tante ripetizioni dobbiamo fare dei lavori a tempo dobbiamo impostare dei circuiti ed effettivamente potrebbe essere anche un ottimo esercizio come propedeutica per andare ad imparare lo schema motorio del piegamento sulle ginocchia per poi affrontare magari esercizi più complessi come per l'appunto lo squat con l'appoggio posteriore del bilanciere o il front squat con l'appoggio anteriore goblet squat semplicissimo prendiamo un manubrio allarghiamo i piedi piedi che guardano all'esterno da questa posizione possiamo tenere il manubrio in questo modo qua anche sorretto viene sorretto davanti al pet da questa posizione facciamo un'accosciata completa giù ginocchia guardano all'esterno gomiti vanno quasi a incastrarsi all'interno delle ginocchia schiene stesa e di qua su uno e butto fuori l'aria quando salgo giù e poi su metto in questa posizione da questa posizione giù bene e poi su buttando fuori l'aria così viene eseguito un ottimo goblet squat da inserire nei vostri allenamenti alla prossima ciao ma che cosa stai aspettando sei ancora qua dai vieni sul mio sito umberto miletto punto conti metto il link qua sotto al video perché ti ho preparato tantissimi articoli su allenamento alimentazione programmi gratuiti che ti permetteranno di migliorare dai corri subito grazie a tutti grazie a tutti